Salve gente, benvenuti in questo nuovo video dedicato ai The Ring. Oggi vediamo una nuova build, perché il gioco nel DLC ci ha regalato tutti i pezzi che servivano per poter fare una build fede arcano che sia davvero sinergica. E quindi ti presento oggi la build del Cavaliere Draconico. Quali sono i pezzi che ci interessano? Abbiamo anzitutto come arma il Martello Fior di Pietra, che ci interessa soprattutto per la sua abilità. Intanto è un Martello, ho sempre adorato i Martelli e il loro moveset. Questo in più ha anche una bellissima abilità che ti permette di scagliare un fulmine sul nemico che colpisce sempre il bersaglio, fa buoni danni, ha ottimo tracking e applica al bersaglio anche un debuff che fa sia che quel nemico si becchi più danni da fulmine. Il che è perfetto perché stiamo ovviamente mettendo su una build che sfrutterà gli incantesimi del culto draconico, quindi danni da fulmine. L'altra arma che vogliamo utilizzare è il sigilo della comunione draconica. Questo è il miglior talismano che possiamo utilizzare con le statistiche che vedremo tra poco, e in più anche il bonus di potenziare gli incantesimi draconici che vorremmo anche utilizzare nella nostra build. Parliamo a questo punto degli incantesimi che effettivamente andiamo ad utilizzare. Andiamo ad utilizzare anzitutto la lancia folgorante del cavaliere, che è il nuovo incantesimo che fa danno alla fulmine migliore del gioco e per quanto mi riguarda il mio incantesimo preferito single target. Fa tanti danni, è caricabile ed è veloce da lanciare. Ha tutto quello che voglio. Andiamo poi ad utilizzare ovviamente l'attacco folgorante dei draghi antichi, perché rimane comunque anche dopo l'uscita del DLC l'incantesimo che può fare più danni in assoluto nel gioco. E poi visto che questa è una build arcanus, sfruttiamo ovviamente anche gli incantesimi draconici. Nel particolare io nel setup inserisco Fauci di Drago per fare un sacco di danni fisici e il Soffio Congelante che oltre a fare buoni danni applica anche lo status congelamento nemici, il che è sempre un plus. Io utilizzo soltanto questi quattro incantesimi, chiaramente tu sentiti libero di aggiungere qualunque altro rende il tuo gameplay per te più divertente. Queste due, il martello fior di pietra e il sigillo della comunione dragonica sono le uniche armi che davvero servono in questa build, ma lo spazio in termini di carico di equipaggiamento ce l'abbiamo. E quindi ho deciso di portarmi dietro anche lo scudo del cavaliere esule, il migliore che possiamo equipaggiare con le nostre statistiche. E poi due sigilli di breccia e un altro sigillo della comunione dragonica per poter avere tutti i buff possibili e avere la possibilità di giocare con qualunque combinazione si voglia. Quindi se vuoi utilizzare il sigillo nella mano destra mentre col sinistro tieni lo scudo lo puoi fare, così come puoi invece utilizzare sulla destra il sigillo di breccia e scagliare gli incantesimi col sigillo della comunione dragonica per fare complessivamente più danni con gli incantesimi da fulmine e così via. Divertiti a provare tutte le combinazioni, il punto è che inserirli male non fa. Per quanto riguarda l'armatura invece utilizziamo l'intero set del cavaliere della morte, questa nuova armatura introdotta nel DLC che potenzia tutti gli incantesimi del culto dragonico, ovvero per l'appunto gli incantesimi che fanno danno da fulmine. Per quanto riguarda invece i talismani abbiamo il talismano delle gregge che potenzia gli incantesimi, l'icona di goffri che potenzia tutto ciò che è caricabile, quindi ancora una volta i nostri incantesimi, l'icona di radagon per aumentare la velocità di lancio delle magie e poi il quarto slot è libero. Puoi inserire la bulletta di scorpione fulmine per fare ancora più danni con i tuoi incantesimi fulminanti, ma puoi anche sentirti libero e inserire qualunque altra cosa tu voglia. Il quarto slot è davvero libero. Per quanto riguarda la piscella del balzano portentoso invece inseriamo la lacrima spezzata del velo di fulmine che aumenta il 20% dei nostri danni di fulmine e la seconda lacrima ancora una volta è libera. Io ho inserito la lacrima di cristallo cellulia celata per poter lanciare gratuitamente il nostro incantesimo più potente, ma puoi sostituirla con qualunque altra cosa ti aggradi. Ultimo pezzo sinergico, se volessi utilizzare questa build insieme a una evocazione spiritica ti consiglio di utilizzare il drago antico Florisax. Questo infatti utilizzerà la nostra stessa arma e quindi anche lui non solo farà danni da fulmine, approfittando del debuff che noi metteremo all'avversario, ma anche lui metterà quello stesso debuff all'avversario potenziando i nostri attacchi. Quindi più sinergici di così non si può essere. Per quanto riguarda le statistiche invece abbiamo a livello 150 60 punti in vitalità, sempre questo livello da raggiungere in tutte le build di endgame, 29 punti in mente, 20 punti in tempera che è quanto ci serve per poter tenere tutto quello che ti ho mostrato finora restando in carico medio, 14 punti in forza perché ci sono richiesti dai requisiti della nostra arma e poi 36 punti in fede e 50 in arcano. Questi sono i livelli che ci permettono di massimizzare i danni soprattutto per quanto riguarda il lancio di incantesimi ma anche la nostra arma che scala per l'appunto su arcano. E direi che il senso della build è chiara, abbiamo davanti una bella build sinergica da incantatore che lancia appunto incantesimi del culto dragonico e incantesimi dragonici, potenziati tutti questi dai vari pezzi della nostra armatura o dei nostri sigilli. E in più abbiamo anche la possibilità di avere un'arma melee a nostra disposizione che fa buoni danni e rende l'esplorazione delle vappe di gioco sicuramente più piacevole. E questo è tutto per quanto riguarda questa build che è la mia nuova build preferita in assoluto per quanto riguarda le build hybride tra incantatore e combattente melee. Io spero che il video ti sia stato utile, ti ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao!